Aumentano i malpancisti e gli assessori mancati della giunta Emiliano sono sul piede di guerra. Dopo l'umiliazione subita alle sagre il prefetto Nunziante è pronto a rifiutare ogni possibile incarico istituzionale a partire dal ripescaggio di uno dei tre posti da assessore ancora vacanti. Nunziante diffiderà il governatore Emiliano da qualsiasi operazione di rientro nei suoi confronti. Pisicchio invece chiede il rispetto per la civica che rappresenta Emiliano per la Puglia dopo l'esclusione del suo curriculum dai dieci assessori di partenza. Questo diventa un inizio di discussione di chiarimento politico perché mi sembra corretto che una componente in qualche misura doveva quantomeno essere indicata. Ma il carico da 90 arriva da Sergio Blasi il più suffragato alle regionali ignorato dal presidente Emiliano. Le sagre sono state una sola commenta l'esponente PD rifilata agli iscritti che se ne sono accorti e offesi dalla farsa non hanno votato. Il listino bloccato aggiunge un accordo sottobanco tra Emiliano Ruggeri e Stefano i leader di Udc e noi a sinistra scelte dettate dalle vecchie logiche manuale Cencelli e fedeltà al capo. Poi le critiche per la strumentalizzazione dei 5 Stelle diventati carne da propaganda per Emiliano. Rivolto al governatore pugliese Blasi li chiede di fare il capo della Puglia piuttosto che ambire a fare il presidente del Consiglio.